L'11 luglio viene Renzi qui a Torino, mega vertice con tutti i capi di Stato d'Europa, si parlerà di disoccupazione giovanile, si parlerà, si parlerà, si parlerà come da tempo, 7 anni di crisi, che ne pensi tu di questa visita? Guarda, sinceramente qua a Torino la crisi si sente, lavoro io non ne vedo, neanche per noi giovani e non c'è nient'altro da dire, nel senso che tutti dicono che si può trovare lavoro così, però anche qua mi senti in giro, però si vedrà avanti, però no, non credo. Ha promesso 80 euro a tutti? Io non li ho visti, quindi non so chi è che li ha visti, ti può dire sì ok però. Saresti per rimandarli tutti a casa, se posso dire a calci nel culo? Quasi, direi proprio. L'11 luglio Renzi e i capi di Stato europei saranno a Torino per parlare di disoccupazione giovanile, che cosa ne pensi? Io lavoro in nero e devo vivere con un lavoro in nero perché a 17 anni non posso trovare un lavoro normale, perché loro non me ne vanno l'opportunità, quindi mi fanno pena, perché ti svolgo. Ciao, sono Mirko, ho 23 anni e sono disoccupato. Grazie a voi politici, non ho un lavoro e adesso sono senza soldi anche, non posso farmi una vacanza, neanche una vita. Avevo una ragazza e non ho potuto farmi niente perché non ho niente e adesso mi sono anche lasciato. E vi manderei volentieri anche a fanculo per le prese per il culo che date e per il vostro 80 euro che avete promesso, che avete comprato i voti e secondo me non darete niente a nessuno. Grazie. Grazie.